come è iniziata beh le banche certamente non ti danno soldi quando abbiamo iniziato ad acquisire a comprare quote azioni di questa società io ho avuto la fortuna di avere il papà che mi ha prestato i soldi mio papà ho sempre avuto un pessimo rapporto professionale ma un buon rapporto il rapporto padre figlio e mi ha detto io ti presto i soldi basta che mi restituisci io circa dieci anni ho restituito i soldi che mi aveva prestato di questo ne vado ovviamente orgoglioso perché perché mi sento di essermi fatto in qualche maniera da solo non 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 non